Se Dio ci regalasse l'intero universo con tutti i suoi tesori, tutto ciò non sarebbe paragonabile alla più lieve sofferenza. Che grazia quando al mattino non ci sentiamo un briciolo di coraggio, un briciolo di forza per praticare la virtù. Allora è il momento di mettere la scure alla radice dell'albero, invece di perdere il tempo a racimolare qualche povera pagliuzza, affondiamo le mani nei diamanti.